ciao da monica delle maestre cubetti proviamo ancora a lavorare con i command block e ci metto sopra una leva poi tasto destro del mouse lo apro e lo programma e nella striscia di programmazione scriverò give chioccio la p che sta per pieghe dial point lock sì e dovrebbe a questo punto quando tiro la leva darmi un diamante da mia parte perfetto diventa ricchi interessante se vogliamo fare un percorso game nel nostro mondo consegnare un oggetto al giocatore grazie 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 grazie